Oh, non è passato molto tempo dell'ultima volta che ci siamo visti, ma mi è sembrata un'eternità! Non vedo l'ora di raccontarti della mia nuova scuola! Io non vedo l'ora di sentirne parlare! Aspetta, non so da dove iniziare! Va bene, dal primo giorno! Bubs! Sono felice di vederti! Anch'io! Non perderei l'occasione di stare un po' con la mia cugina preferita per nulla al mondo! Perché non provate il percorso a ostacoli? Perché prima volevamo chiacchierare fra di noi! Oh, non preoccupatevi! Ci sarà tempo per i rapporti familiari durante le gare con gli altri cugini! Molto bene, Pony! Siete pronti a divertirvi? Cosa è quello lassù al traguardo? Ma sarò a più di un chilometro! No, veramente quello è il segnale che indica la parte successiva di questa gara! Ce n'è più di una! Molte di più, credetemi! Ho pensato a qualcosa che non scorderete mai! Finita la gara delle sette zampe dovrete sbrigarvi e andare laggiù Prendere le mele con la bocca Correre intorno a questi alberi 50 volte fino a quando non vi girerà la testa per bene Saltare senza sbagliare questi ostacoli E infine l'ultima parte del percorso Tenere in equilibrio dei piatti mentre dite più volte di seguito un piccolo Pony Pose la pappa su un po' di pasta L'ultimo Pony che rimane vince! Stai scherzando? Non sto scherzando! Non perdere! Costruiamo dei ricordi memorabili ai vostri posti! Al mio segnale! Via! Bene, così continuate! Andiamo a vedere la coperta Fantastica! Da quanto tempo hai queste nuove zanne Apple Sauce? Una donna non dice mai l'età dei suoi denti, gara! Evita di guardarmi in quel modo, signorina Apple Rose! Non penserete che mi sia dimenticata di quello che avete combinato al mio parasole ben seri in patria? Ehi, hai ricordato che l'abbiamo usato per rompere la pigliata! Ciao Apple Duck! È meraviglioso vederti! Vuoi unirti a noi per cucire la coperta? Scusate Apple Sauce, ma ho un sacco di cose da fare! Perché non avete iniziato? Eh, veramente non vediamo le nostre sedie ad ondolo! Ne ho da riempirci una stanza! Di questo raduno ricorderete di aver terminato la coperta! Terminarla? Non pensi che sia emozionante, casa? La scelta! Ho detto, non pensi che sia... Emozionante? Probabile! Anche se mi è stato detto che troppe emozioni insieme possono danneggiare questa mia pelle fresca e giovanile! Sì, è questo lo spirito! Parla più forte! Come dici? Oh, santa frittella! Cosa vuoi le frittelle? Abbi pazienza, le stanno preparando ora! Dimmi, discuto a lui e su Itibail, come stanno? Bene! Che c'è? Tutto a posto! Mi gira la testa! Se non sbaglio, adesso hai otto figli, vero? Sì, ricordi perfettamente! Sai una cosa? Il mio apple tart sarà pure un puledrino, ma vedi sì come buffo! Vi divertite? Sicuro! Come non mai! È meglio aumentare il ritmo con le frittelle! Arrotola, riempi, premi e via! Arrotola, riempi, premi e via! Arrotola, riempi, premi e via! Hai visto? Ora prova tu! Eccellente! Dovete tenere un ritmo sostenuto! Vogliamo che tutti i pony abbiano la possibilità di assaggiare le migliori frittelle di Equestria! Un picco! Per 좋아요! Grazie a tutti